Sì, sono Filippo Colaianni e sono qui oggi per parlare del BLUE NRG MESH, l'implementazione della topologia ST di Bluetooth MESH. La topologia Bluetooth MESH ha stato rilassato dal Bluetooth SIG nel giulio del 2017. È targetta un'applicazione industriale di smart home, come smart light o wireless sensor network. STMicroelectronics ha lavorato vicino al Bluetooth SIG per creare e definire le specifiche MESH. Il BLUE NRG MESH è estendendo la redge contro la comunicazione standard di Bluetooth e la comunicazione point-to-point. perché ogni nodo può fare il rilassato del messaggio dell'altro nodo. Usualmente nella topologia standard di mesh network, abbiamo un nodo e un controllo. Un nodo potrebbe essere un nodo standard e un nodo come smart light, sensore temperature, sensore thermostat. Il controllo è un dispositivo smart che può essere fatto da un nodo o da un smartphone smart. Quindi, in questa modo, posso usare il mio dispositivo smart che è fatto da un board evolutivo e, con il doppio tap, posso rilasciare e rilasciare tutte le luci, tutte le luci di gruppo di luci. La stessa operazione può essere fatta da utilizzare il smartphone, utilizzando una app dedicata. Potremmo switch off, switch on, la luce, usando un tap su Android. È importante anche la provisioning, che è sempre belonging a la specifiche MESH Bluetooth. È fatto usando un smartphone che, in un modo sicuro, utilizzando l'encryption, puoi creare il tuo network Bluetooth MESH securo. Il MESH Blue Energy MESH è basato su un dispositivo Bluetooth Energy-1 con 128 KB di flash, o un dispositivo Blue Energy-2 con 256 KB di flash. O, puoi usare la combinazione di S-142 L1 più un dispositivo Blue Energy MS. con un dispositivo Bluetooth MESH. Oggi, S-T è potuto deliverare il Blu Energy MESH SDK, che dà un esempio più di uno per esempio per rilasciare il tuo network, Android App o iOS App, e tutte le documentazioni che bisogna per creare il tuo network MESH final. Quindi, inizia a designare il tuo network Bluetooth MESH usando Blu Energy MESH e ST-Mag elettronica. Grazie per il tuo tempo, un buon giorno! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!